L'allarma è scattato questa mattina alle 9 quando un'anziana signora entrando al cimitero cartecchio di Teramo ha notato un cadavere lungo la linea ferroviaria. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile di Teramo e insieme al medico legale hanno constatato il decesso dell'uomo. Si tratta di Mauro Fraticelli, teramano, 55 anni, sposato e dipendente di banca. Sarebbe arrivato sul luogo con la propria autovettura regolarmente parcheggiata. Il corpo non presentava lesioni da investimento e nessuna segnalazione del genere è stata fatta dalle ferrovie dello Stato. Si ipotizza che il treno l'abbia potuto solo sfiorare. Intanto si pensa ad un suicidio ma si potrebbe trattare anche di una distrazione fatale.